bentornati tutti voi ad una nuova trasmissione di quattro zampi tv video adozioni bibiana grazie lega nazionale per la difesa del cane bentornata e grazie per l'accoglienza ciao grazie a voi che siete ritornati a trovarci avete qui davanti bisù quella scura e nocciolina quella chiara passiamo subito la nostra copertina la campagna adotto un nonno è terminata io la vorrei prorogare perché loro due se la meritano sono inseparabili allora è vero la campagna adotta un nonno è terminata loro però possono andar via con una mezza campagna adotto un nonno perché il canile se se loro venissero adottate si prenderebbe carico di tutte le spese veterinarie occorrende per un cane anziano allora loro sono inseparabili perché in realtà nocciolina quella chiara aveva trovato un'adozione nella campagna adotta un nonno ma non c'è voluta restare in quella casa perché non c'era bisù insieme allora arrivano da policori in basilicata avrebbero dovuto andare in un canile con mille cani e le volontarie ci hanno chiesto se potevamo ospitarle noi che un canile un pochino più piccolo un pochino più a misura di cani e così sono qui con noi grazie ad un anno dall'arrivo del covid cos'è cambiato per i nostri amici a quattro zampe nel torno dei canili quali sono state le difficoltà che hanno dovuto affrontare allora difficoltà pochissime nel senso che noi abbiamo avuto molti meno cani sul territorio forse perché con il lockdown i padroni sono più a casa sono più attenti ai loro cani e non li lasciano tanto scorazzare in giro abbiamo avuti molti meno abbandoni abbiamo avuto sì è vero tante mamme con i cuccioli perché probabilmente le persone non si sono attrezzate nel momento giusto i cui le mamme hanno partorito e poi sono finite in canile però però abbiamo avuto tantissime richieste non solo di cuccioli ma anche di cani adulti allora è cambiata molto in questo anno la percezione del cane del canile la gente viene molto volentieri a trovare questi cani a portarseli a passeggio e a portarseli a casa pensate che nel 2020 saranno andati via dai 370 ai 400 cani auguriamoci comunque che i canili rimangano sempre aperti sempre con appuntamento con tutte le precauzioni ricordiamo che dalla scorsa puntata hanno trovato casa tutti meno simba che vi ripresenteremo dunque sarà selli maura e max speriamo per i nostri amici che abbiamo qui nel box con noi il nostro punto di vista deve essere anche questo riuscire a capire che cosa succede che cosa possono pensare loro a trascorrere una vita dentro un box questa è una suite non è un box di un canile io vorrei sottolineare allora loro in effetti quando sono arrivati qui non avevano nella loro vita mai visto l'erba perché erano sempre state chiuse sul cemento sono arrivate in questo canile che erano cucciole di due mesi e sono venute via a 13 e 14 anni con nostro amico giordano noi nel passato abbiamo visto i canili del sud il canile di trani che è stato sequestrato dalla lega è stato liberato è stato aperto dunque nel loro nella espressione c'è questo passato cerchiamo di costruire per loro e per tutti i nostri amici quattro zampe un futuro migliore questo è il compito della lega il compito della lega certamente quello di dare un futuro di dare una casa e di dar loro una famiglia partiamo i cani non piangono purtroppo altrimenti forse capiremmo quanto possono soffrire per questo c'è la lega nazionale per la difesa del cane per salvare migliaia di cani dalla violenza per loro peggiore la violenza dell'uomo aiutaci con il tuo 5 per mille non costa niente ma vale tantissimo per migliaia e migliaia di animali bene a questo punto voltiamo pagina dai cani anziani ai cani giovani ma bentornate benvenuto a katia che gestisce simba e ad elina che è l'educatrice del canile credo anche altre attività perché simba da due mesi non abbia trovato adozione e ce lo spiegherà elina allora simba è un bellissimo cane giovane di un anno e mezzo stiamo lavorando con lui visto che è un cane di grossa taglia sulla sulla sua cinestesi sulla sua mobilità sul fatto di fargli muovere autonomamente le zampe stiamo facendo degli esercizi di movimento e stiamo migliorando ancora di più la sua gestione a guinzaglio anche se un cane che si lascia guidare molto e quindi è tutto un percorso in positivo è un cane che sarebbe benissimo in una famiglia con giardino va d'accordo con le femmine e ha tanto bisogno di relazione con gli umani io raccomando un cane dinamico a coloro che hanno una vita dinamica questo sì sempre perché il cane ci deve somigliare noi dobbiamo un po somigliare a lui non adottato in questo periodo invece abbiamo visto dalla lista tutti gli altri hanno trovato casa per qual è il motivo secondo te e allora i cani di grossa taglia faticano un pochino di più perché solitamente vogliamo un cane piccolino un cane di media taglia e quindi il cane più grande ci vuole un attimino di più anche se non è detto che magari un cane piccolino da più problemi di un altro e nel rifugio dopo l'adozione affiancherà gli adottanti in un percorso sì senz'altro il canile come sempre offre due incontri di educazione cinofila e poi senz'altro si può andare avanti anzi ci piacerebbe molto seguire la famiglia adottante per fare in modo che questo fidanzamento diventi un matrimonio duratura perché questa è la nostra speranza se questo è il fine sempre bene a questo punto io ho detto che simba è un cane fortunato perché katia non scherza nella nella sua passione elena l'educatrice e la struttura che lo aiuta a questo punto io mi auguro che nella prossima trasmissione faremo vedere l'immagine di simba con un bello scritto adottato grazie grazie a voi finalmente la chi fa la comparsa di fronte nostra telecamera il rifugio lo ha accolto lo ha salvato lo ha curato e ora è il momento dell'adozione lui potrebbe andare tranquillamente in una casa è un cane buonissimo pensate che marinella che lo sta accarezzando per un certo periodo se lo portava in giro in braccio perché non riusciva a portarlo a portarlo nei vari spazi adesso lui ha imparato è un cane che non ha nessun tipo di problema ama molto stare coricato al sole e fa anche una bella guardia per chi volesse anche un cane che faccia che possa vigilare sulla sua casa è un maremmano uno pseudo maremmano non so bene è stato rimesso a nuovo dal canile e lui ci è molto grati per questo infatti vedete come si lascia accarezzare da marinella sta vicino a lei non ha guinzaglio in questo momento questo cane quindi potrebbe andarsene tranquillamente da qualche parte lui sta lì vicino a noi dalla sardegna con la speranza di trovare una bella adozione si sono arrivati da molto lontano da carbonia sono dei cuccioletti di ormai quattro mesi sono vedete molto ben socializzati vivacissimi però sono dei cani vedete quello che sta cercando di prendere i capelli di katia che sono lunghi e bellissimi da tirare quei due che a katia sono due fratelli l'altro invece che è quello di marinella si chiama bob e con loro arriva sempre dalla sardegna però non è un fratello sono comunque tutti della stessa età più o meno sui quattro mesi hanno già cambiato i dentini davanti chi li prenderà chi vorrà adottarne uno non avrà dei grossi problemi se non di tenere a bada la vivacità di questi cuccioli che come cuccioli logicamente è giusto che abbiano concludiamo a questo punto con nebbia e la sua storia triste storia tristissima storia quella di nebbia perché è stata sequestrata perché era tenuta a 30 centimetri di catena non aveva la possibilità di sedersi con tre cuccioli accanto che per poter mangiare o per poter succhiare dalle sue mammelle dovevano mettersi dritti e in più avevano da mangiare una pecora morta per cui loro per potersi sfamare anche perché quando sono arrivati qui da noi avevano già 35 giorni avevano già bisogno di mangiare e quindi avevano provato anche loro a mangiare la questa pecora voi immaginate che loro quando sono arrivati avevano tutto il muso rosso dal sangue erano magrissimi naturalmente la mamma ha bevuto due ciotoli d'acqua una dietro l'altra perché da tanto tempo non aveva l'acqua a disposizione queste le condizioni nelle quali è stato trovato un cane da pastore la mia domanda è che cosa è successo a questo pastore che ha maltrattato i propri cani diciamo allora quando noi abbiamo saputo di questo cane abbiamo chiamato i carabinieri forestali e il veterinario dell'ASL che sono andati hanno fatto verbali hanno fatto fotografie eccetera poi noi siamo andati a prenderci questi cani e l'iter continuerà non mi è dato di sapere che cosa succederà perché sapete che non sono così delle cose che si risolvono in poco tempo però l'importante è aver chiamato chi di dovere che gestisse una situazione l'importante è non voltarci dall'altra ma avvisare le autorità di qualunque le carabinieri piuttosto che i vigili allora noi siamo stati molto in dubbio se andare noi direttamente portarceli via però poi saremmo caduti in un reato anche noi perché la mamma è microcipata non avremmo potuto far niente non avremmo potuto continuare un'azione perché noi in realtà siamo un'associazione animalista però non abbiamo veste in queste cose per cui io ho detto... comunque avvisare l'autorità questo è il segnale il messaggio avvisato l'autorità se vedete un maltrattamento in corso i soldi funzionano molto bene e se tu li avvisi per delle cose certe certamente... no la ripresa con lo smartphone e l'avvertimento cioè la prima cosa riprendere col proprio smartphone per provare noi abbiamo mandato tutte le foto e loro il mattino dopo alle 9 erano già lì neve ne ha tratto a vantaggio e qui bella come il sole e un grande futuro grazie al vostro lavoro c'erano anche i suoi fratelli che hanno già trovato adozione e lei andrà in una casa oggi pomeriggio bene e dobbiamo concludere grazie alla Lega diciamo io generalizzo perché siete in tanti generalizzo perché tanto va bene così noi siamo orgogliosi di essere Lega del Cane la Lega nazionale per la difesa del cane che su tutto il territorio aiuta i cani maltrattati i cani in difficoltà grazie Katia la saluta in... perché ormai dopo 10 anni potremmo definirci amici grazie a tutti voi per l'attenzione e buona adozione a tutti rivediamo i nostri amici a quattro zampi grazie a tutti grazie a tutti i cani non piangono purtroppo altrimenti forse capiremmo quanto possono soffrire per questo c'è la Lega nazionale per la difesa del cane per salvare migliaia di cani dalla violenza per loro peggiore la violenza dell'uomo aiutaci con il tuo 5 per 1000 non costa niente ma vale tantissimo per migliaia e migliaia di animali l'automobile club torino che patrocinia dalla nascita video adozioni ha deciso di pubblicare sul proprio sito acitorino.it le nostre trasmissioni da sempre l'ACI Torino è impegnato nella campagna contro l'abbandono degli animali lungo la strada perché sono causa certa di incidenti ringraziamo l'ACI per la collaborazione e per il contributo alle adozioni e per il contributo alle adozioni